Vincenzo, volevo sapere come... forse è la prima volta che vedevi un mio concerto, la prima volta. Quale è la tua impressione? Come ti è sembrato? L'impressione non ti avevo mai visto da vivo, devo dire che sei un... Mi conoscevi solo come farmacista? Sì, ma anche come personaggio bolognese. Davvero? Sì, e devo dire che sei un cantautore ottimo. Sei intonato, sei intrattenitore, hai carisma, c'è una cartola come diciamo qua a Bologna, capito? Ti ringrazio. Quindi il locale è contento e quindi è un sodalizio che avrà un futuro. Esatto, grazie. Questa cosa, dai, giusto, questa cosa canetta perché l'importante è che... E poi devo dire che... Continuano a chiamarci. Non so quanti anni hai in te, io ne ho 50, però tu sei più o meno, sei più giovane di me. Io non lo posso dire qua in diretta. Però sei... Do you like the concert? Yes, I'm from Ireland and you were singing some Irish songs, but in Italian. In Italia, sì, translated. But I couldn't... Non è vero. Non ho fatto una traduzione sulla canzone in Vendese. Vabbè, lo stesso. Si assomigliano tutte, tutti di piccoli plagi. Ok. Grazie.